Si è svolta ieri mattina la riunione convocata dal governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, con i rappresentanti del mondo della scuola, i sindacati e la direzione scolastica e poi anche con i dirigenti delle ASL, dell'ospedale Santo Bono e i componenti dell'unità di crisi. Nel confronto è stata innanzitutto evidenziata la grande attenzione della regione verso il mondo della scuola, come viene riportato nella nota del lente guidato da Vincenzo De Luca. Ancora nelle ultime settimane, come già nel fine dell'estate, con lo screening di massa per il personale docente e non docente e l'acquisto dei termoscanner. È stata affrontata e discussa l'ipotesi della ripresa didattica in presenza, almeno per i primi due anni della scuola primaria, ed è stato illustrato il dato epidemiologico che riguarda questa e le altre fasce di età scolastica. Sulla base dei dati sull'andamento epidemiologico delle unità di crisi, delle ASL e del Santo Bono, si è concordato sulla necessità di verificare la situazione nei prossimi dieci giorni. Va monitorato se si registrerà un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria, tale da consentire un allentamento delle misure già prese in condizioni di piena sicurezza per gli alunni, il personale e le famiglie. È stata condivisa inoltre la necessità di utilizzare comunque questi giorni per prepararsi al futuro, in particolare in tema di trasporto pubblico. Il governatore De Luca ha informato i partecipanti che altri 250 bus di società private saranno destinate al trasporto con uno stanziamento di 4 milioni di euro e si lavorerà insieme anche per ulteriori iniziative di sostegno al mondo della scuola. Nel frattempo proseguono i progetti scolastici per le fasce più deboli, per la didattica di sostegno, per garantire un ampliamento dei concedi parentali per i genitori, come già richiesto al governo e bonus destinati all'acquisto di tecnologie utili alla didattica a distanza. È stato importante, ha infine dichiarato il governatore Vincenzo De Luca, registrare un clima di grande collaborazione e grande senso di responsabilità fra tutti i partecipanti di acquisto e importante confronto.